Oggi comincia l'attentato di Satana nella mia vita, perché calcolando i giorni che mi restano da vivere. Oggi sono esattamente posti in lunghezza 666 e posti in linea di un piano frontale. Questo piano frontale ha come lato il ciclo intero 10 della presenza, tanto che c'è 10 più 10, 20 in linea come lunghezza del piano unitario, mentre c'è 666 come lunghezza di fronte. È una opera che inizia oggi e in sei giorni di attività arriverà fino al 14 settembre, giorno di esaltazione della Santa Croce. Vediamo un po' quali sono tutti i santi in questo periodo. Avevamo letto, perché ne ho parlato nei giorni scorsi, come in Apocalisse, nel capitolo 12 e nel versetto 6 si narra di un Gesù rapito in cielo e della Maria Santissima che trova rifugio in un deserto, nel quale ella rimarrà per 1260 giorni. Ecco, il giorno di oggi, come vedete qui, 9 settembre, San Pietro Claver, comincia dopo l'8 settembre in cui si è celebrata la Natività della Beata Vergine Maria. Ecco, San Pietro Claver oggi indica proprio idealmente una cosa che farà ridere coloro che non assegnano sufficientemente importanza alle parole. Ma Claver nelle ultime quattro lettere indica AVER. Le prime due indica CL e sapete bene CL che cosa significa oggi nei movimenti della fede cristiana cattolica. Rimanda a comunione e liberazione. oggi si celebra virtualmente perché quello di cui io vi sto parlando sono proprio significati essenziali, virtuali che trascendono interamente la verità apparente nei fatti perché Claver è un nome che, come tutti i cognomi, è quello che è, ma trascende un AVERE CL in Pietro, ossia un Vicario di Cristo che sia nelle linee di quella comunione e liberazione che a lungo è stata combattuta dalla Chiesa Cattolica e che poi alla fine si è imposta, soprattutto grazie al Papa Giovanni Paolo II, il quale non l'ha discriminata come avevano fatto tutti gli altri. Ma in relazione proprio a me, che vi parlo, CL è un movimento che è nato per opera di Don Giussani, il quale è stato personalmente un mio insegnante di religione quando nel liceo Giovanni Bersci a Milano io l'ho avuto proprio come il professore di religione. Giovanni Bersci a Milano non aveva ancora fondato Comunione e Liberazione e la sua stessa esperienza lì dove io svolgevo la mia fu radicale per lui perché c'era un professore di filosofia di cognome micinesi il quale con la filosofia era riuscito talmente a influenzare tutti noi che eravamo lì tanto da farne una sorta di idolo. Era stato soprannominato Ho Chi Minh perché assomigliava vagamente a un cinese e nel grido di battaglia della nostra squadra di basket che partecipava al torneo che c'era nel liceo il nostro grido di battaglia proprio in virtù del professor Micinesi era diventato Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Min, Min. Don Giussani vedendo fino a che punto i giovani erano stati come catturati da questa capacità ma della filosofia di cogliere l'interesse della gioventù pensò come mai ciò non accadesse per quanto riguardava le questioni della fede in Cristo e i primi tentativi di gioventù studentesca e poi sarebbero stati quelli che avrebbero portato a comunione e liberazione furono senza ombra di dubbi e quindi detti da uno come me che è stato testimone a questi eventi influenzati decisamente dall'ascendente che il professor Micinesi aveva su tutti gli allievi del liceo Bershè che erano i suoi allievi Ecco come dal male nasce il bene perché il valore della filosofia quando è gestito male da un ateo come era il professor Micinesi che porta gli studenti a assumere delle posizioni nette e decise tanto nette e decise che il primo della classe che era in ballottaggio tra due figure una che faceva capo a Pierluigi Bernareggi e l'altra che faceva capo a un altro studente erano un po' in lizza come tra Sparta e Atene lo spartano in questa situazione era Bernareggi non entrava nel sì, sì, no, no con tutta la problematica di una compromissione ma era deciso come Gesù voleva dite sì, sì, no, no e avrebbe nel corso della sua vita fondato tutta la sua esistenza su un sì detto a Cristo tanto che si sarebbe fatto sacerdote missionario e sarebbe andato in Brasile dove avendo avuto una parrocchia da gestire con la sua laurea aveva potuto anche essere preso come professore di filosofia nella facoltà che esisteva lì a Belo Horizonte in Brasile ecco dove porta proprio la lotta tra il bene e il male quando è una lotta radicale c'è tra tanti che non si muovono chi si muove e un Pierluigi Bernareggi primo della classe che non segue le indicazioni di un professor di filosofia che tentava una sorta di plagio e riscatta la verità di Cristo il proprio valore ideale fu in un certo senso molto vicino a come io personalmente reagii a questo che vedevo intorno a me ero in un momento di confusione io lì al Berset io dodicenne che avevo una crisi vera e propria legata alla povertà legata al fatto che mi ero spostato da Salerno fino a Milano dove per un anno non avevo più abitato in casa dei miei ma in via larga al 13 presso la famiglia Venturelli che era il marito di Antonietta Amodeo sorella di mio padre ebbene io vedevo tutto e assorbivo tutto senza essere minimamente spostato né da una parte né dall'altra ero come una spugna che assorbiva tutto ma per il professor di filosofia che voleva spostarmi ero simile invece a un cuscino di piume e un giorno uscì letteralmente dai gangheri quando avendo tentato per l'ennesima volta di muovermi sbottò dicendo Amodeo io non so come sei fatto tu ti do ogni tanto di quei cazzottoni che sposterebbero un elefante ma tu niente assorbi il corpo come un cuscino ecco io assorbivo le varie energie che mi venivano da tutte le parti e le facevo cosa mia le gestivo tutte a modo mio e prima di riuscire poi a esprimere un modo mio io avrei avuto bisogno di arrivare agli stessi trenta anni in cui arrivò Gesù prima di entrare nella vita pubblica fui trascinato nuovamente alla fede verso Gesù proprio da comunione liberazione ma non per come aveva espresso Don Giussani quando lo avevo avuto come un professore che mi parlava direttamente no come avrebbe potuto agendo su chi mosso da lui aveva mosso altri che avevano mosso altri che avevano mosso altri e si era creato tutto un movimento di comunione e liberazione che si era diffuso era giunto fino a Seveso e lì aveva coinvolto una ragazza di Seveso Daniela Forlin con la quale io veni a contatto quando lavorando entrambi presso il consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare io come assistente di direzione del servizio tecnico che facevo le parti del direttore assente per quanto riguardava gli interventi in corso e lei come impiegata entrammo in una condivisione dei problemi della vita e dei relativi giudizi e i miei si scontrarono e incontrarono con i suoi perché io vedevo questa persona molto attenta ai valori di Cristo e vedendomi incapace di arrivare al punto della dipendenza che ella aveva dai valori di Cristo un giorno arrivai a dirle che io ammiravo il Vangelo di Gesù ma a mio avviso Gesù chiedeva troppo perché io che stavo avendo delle vere indicazioni su una grande mia capacità di intendere e di volere non ero capace di andare oltre i due terzi di quello che Gesù chiedeva e lei mi disse Romano sei sicuro che questo che credi è opera tua è davvero opera tua bastò a me questa domanda postami da questa persona autorevole per la sua fede che io mi lasciai davvero interrogare da questa domanda e constatai che tutto quello che credevo di avere fatto di grandioso era dipeso soltanto da un disegno straordinario in cui io ero stato inserito e grazie a tutte le condizioni favorivoli del disegno io avevo potuto compiere tutte quelle mie grandi cose che credevo di avere avuto la capacità di compiere quando mi accorsi che l'utopia non era Gesù con l'eccesso della sua richiesta ma ero io con la pretesa della mia capacità di intendere e di volere misi le cose esattamente al loro posto se tra me e Gesù esisteva una figura utopica non era quella di Gesù era la mia era utopico il mio credere così forte di avere la capacità di intendere e di volere e a quel punto io vogli con tutto me stesso morire a questa mia presunzione e spalancare le porte a Cristo voglio come un buon padre far nascere dentro di me un figlio di Dio così autorevole che si sostituisse interamente nella gestione e nella economia delle mie decisioni e delle mie scelte tutte le volte che c'era una scelta da fare io non mi ponevo come il romano modeo dentro quella scelta ma come un Gesù che si fosse trovato in quella situazione e che avrebbe agito non da romano modeo ma da Gesù insomma io cercai di dare corpo a Cristo come un buon padre grazie a comunione e liberazione aver avuto CL nel mio vissuto ecco è stato il modo con il quale io ho sconfitto quel maligno che si era insediato in me e che in sostanza era la mia pretesa di avere delle capacità nei gesti del mondo delle capacità qualunque quella di respirare di vivere di camminare di pensare di agire in totale la questione di modestia o immodestia legata alla mia persona non era poggiata sulla qualità di un potere tanto tanto che il potere delle piccole cose come respirare agire camminare eccetera era un potere normale umano un potere cose straordinarie come quelle fatte da Gesù ecco questo potere non era certo il mio ecco tutti gli uomini nella loro più o meno grande presunzione pensano di essere modesti perché sono convinti che nel loro agire arrivano a potere agire normalmente compiendo tutti quegli atti minimi che occorrono per vivere ma non le cose straordinarie grandiose che implicherebbero una persona geniale una persona sommamente intelligente una persona mossa da Dio ecco il confine tra l'uomo e l'essere un uomo grandioso mosso da Dio gli uomini normali lo collocano a un certo punto della loro pretesa capacità al di sotto di quella pretesa capacità sono uomini modesti perché si rendono conto che possono respirare muoversi compiere tutti questi atti minimi che sono anche quelli compiuti da un animale ma non quelli divini che implicherebbero non la pura possibilità di essere uomini ma di essere uomini eccezionalmente pilotati e mossi da Dio ecco tutti quanti gli uomini sono cotti a fuoco lento da satana tanto che arrivano a porre il confine tra la loro capacità e la loro incapacità a un certo livello preciso di una loro indubbia capacità e questo è il maligno che agisce su tutti e cottili tutti quanti a fuoco lento li porta a credersi gli autori delle cose minime che riguardano la loro vita mangiare o bere vedere un film oppure fare una passeggiata oppure muoversi verso l'aiuto da dare un amico sono questioni che riguardano la libertà di quel libero arbitrio che noi abbiamo avuto ecco e questo è proprio quella cottura a fuoco lento fatta da satana che ti dice che tu hai la capacità e la possibilità di agire fino a un certo punto qualitativo e non oltre perché il tuo limite arriva fino all'altezza di quella asticella che è fissata per te ed è satana che ti convince che tu hai questa asticella fissata a una certa altezza perché in realtà noi non abbiamo alcun potere di compiere cose che riguardano la creazione delle situazioni esistenti nella realtà dinamica del mondo nessuna c'è alla base di ogni cosa un progetto fatto totalmente da dio significa che il nostro mondo reale esiste esattamente come un disegno che fa capo tutto quanto alla vita di un suo creatore possiamo immaginare un creatore come il world disney che crea tutti i suoi cartoni animati e questi animati come sembrano 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 dei vari pippo pluto paperino gamba di legno personaggi che hanno un loro carattere che hanno una loro volontà che hanno un loro talento e che sono liberi di giostrarsi la vita di quel cartone animato come essi vogliono sappiamo benissimo che ogni personaggio di questo cartone animato non può muoversi se non sulla base di un disegno fatto dal creatore allo stesso modo siamo noi in questa opera creata da un creatore sommo e non siamo dotati di alcuna libertà di compiere quei disegni preliminari solo sulla cui preesistenza noi poi possiamo muoverci immaginate voi un paperino che si può muovere solo grazie a dei disegni che dica questi disegni me li faccio io e io stesso creo le stesse premesse alla mia esistenza è un paperino proprio assurdo e così è ogni uomo cotto da satana ed è assurdo di conseguenza quando ci accorgiamo che oggi 9 settembre è proprio san pietro claver ecco è uno stimolo posto a quella intelligenza che va a capire cose che non esistono come un pietro che abbia cl posto egli pure lì a combattere satana perché invece non è così non c'è un pietro che combatte satana ma se ci spostiamo di sei giorni da questo 9 settembre e arriviamo fino al 14 settembre in cui c'è l'esaltazione della santa croce c'è un pietro uno particolare che è venuto da lontano si chiamava Voitigua è diventato Giovanni Paolo II il quale proprio nel giorno di 14 settembre esaltazione della santa croce ha voluto pubblicare un libro non un libro scusatemi una lettera enciclica rivolta alla chiesa cattolica diretta da lui nella quale lettera enciclica cercava di fissare tutte le lecite relazioni che dovevano esistere tra la fede e la ragione nel punto 56 della lettera enciclica decisamente il papa Giovanni Paolo II spinge con forza estrema tutti i filosofi a non essere troppo timidi nel loro filosofare perché la lezione della storia di questo ultimo millennio che sta per concludersi cito a memoria le sue parole a questo spinge che bisogna non perdere la passione l'ansia per la ricerca e occorre che la ragione dimostri la ragione delle verità dette da Gesù Cristo perché la fede cattolica queste verità le dava per sicure per certe sulla stima verso il personaggio di Gesù talmente grandioso e talmente segno del divino che per la stima in questa figura eccezionalmente significativa in quanto a una figliolanza di Dio in virtù di questa fede tutte le cose dette da Gesù erano prese per buone dalla fede cristiana ebbene bisognava andare oltre secondo quello che aveva detto il Papa bisognava vincere e prendere la filosofia e non trattarla così come aveva fatto il professor micinesi da parte di una figura di un ateo che coglieva le occasioni in tutta la storia della filosofia per controbattere la verità di Cristo ma agendo esattamente nel modo uguale e contrario usare la ragione filosofica per portare a riconoscere vero tutto il pensiero di Gesù Cristo insomma il Papa auspicava delle figure umane che si spogliassero del loro come dire credere che sia importante una cosa se detta da un uomo importante ma che non osservasse il dito che indica una verità dito grandioso quello di Gesù Cristo ma la verità in se stessa essa doveva essere secondo ragione e allora i filosofi che non curano le verità credendole sulla base della grandezza del filosofo ma delle stesse verità usasse la verità della ragione pura per indagare su Cristo e ci fosse un nuovo percorso che portasse verso Cristo tutti coloro che non potevano essere portati verso Cristo da una fede in Lui che mancava oggi al mondo popolato da quasi 7 miliardi di persone ce ne sono per 2 miliardi e mezzo che hanno fede in Cristo tutto il resto non ha fede in Cristo e di conseguenza le verità dette da Cristo che sono la cosa importante che Cristo ha cercato di fare non sono seguite proprio perché esse oggi ancora si poggiano sull'autorevolezza di Gesù e sulla fede in Lui ma essendoci la maggior parte degli uomini oggi che esistono al mondo che non ha fede in Cristo ecco le sue verità non fanno presa sugli uomini il tentativo fatto da Papa Voitiva come vedete e che pubblicò volendo agganciarsi all'esaltazione della Santa Croce proprio nel giorno del 14 settembre del 1998 promosse in tutti i modi la filosofia così come l'aveva promossa quel professor Micinesi che aveva avuto il potere di far reagire il Don Giussani fondatore di Comunione e Liberazione vedete io praticamente a tutti coloro che mi hanno udito all'inizio è parso che io tergiversassi facessi così un discorso totalmente vuoto quando vi facevo notare che oggi si celebra il San Pietro Claver dove stranamente Claver può indicare un aver come fondamento CL ma vedete l'esaltazione della croce che compare dopo sei giorni quelli del lavoro portano proprio a un differente uso della filosofia per produrre a vantaggio della fede quello che produsse il professor Micinesi a vantaggio della fede proprio per la reazione che Don Giussani ebbe nei confronti di un filosofo ateo ma tutti questi giorni dal 9 settembre fino al 14 settembre sono tutti quanti nel segno di una grandiosa croce se aggiungiamo due giorni al 9 settembre e arriviamo all'11 settembre San Ramiro voi sapete bene che io mi chiamo Romano Amodeo il mio nome è Ro come romano e San Ram Iro rimanda nel suo nome proprio a un santo Ram che termina in Ro come nel futuro di ogni verbo che sia vissuto in prima persona sarò andrò farò verbo regolare o irregolare che esista non c'è verbo che nel primo valore soggettivo non termini in Ro Ro è l'estremità estrema del futuro e San Ramiro se lo intendete proprio in senso di futuro è un San Ramiro andrò iro perché ire in latino significa andare andrò da un santo Ram cosa c'è stato di grandioso l'11 settembre dobbiamo andare al 2001 a Nova York le due torri gemelle dell'umanità nelle fattezze del popolo più grande della terra furono abbattute dagli esponenti di una fede stravolta i seguaci di Bin Laden sapete bene l'Aden che cos'è l'Ade Bin Laden è un binario che è duplice e vi porta a due modi di intendere l'Ade già nel termine di Bin Laden è quale Ade se ce n'è di due forme una quella che è la forma violenta di Dio che illude tutta una serie di suicidi in nome di Allah che sono stravolti rispetto a quel Dio di bene che vi porti a un paradiso grazie al bene fatto agli altri e non alla uccisione fatta agli altri ma questi qui che aggredirono le due torri gemelle mossi da un Islam travisato totalmente invece di seguire il Dio del bene nel modo binario di seguirlo seguirono il Dio del male perché spinti da una visione satanica vollero andare in paradiso in tutti coloro che si suicidavano si suicidarono in questo gesto sacrificandosi per uccidere ecco il bin Laden ma sapete tutto questo che accade l'11 settembre mentre sembra promosso da questa armata brancaleone come dire dell'Islam che fa la sua guerra santa e abbatte le due torri gemelle dell'orgoglio umano della nazione più grande del mondo è evidentemente il segno di una fede stravolta che si oppone a un disegno di Dio qual è il disegno di Dio il disegno di Dio vedete è stato promosso proprio con quanto è accaduto il 14 settembre giorno di esaltazione della santa croce con il papa che volle fossero erette le due torri di Dio la fede e la ragione questo il 14 settembre togliamo a questo 14 tutta la trinità di Dio ossia tutto il volume che il papa ha cercato di mettere in piedi il 14 settembre e 14 meno 3 fa 11 ecco che tolta la trinità del volume a questo 14 il giorno 11 settembre i due volumi delle due torri gemelle mostrarono un evento tanto problematico nella sua possibilità di esistere che ci sono state accuse su accuse fatte da tutti coloro che hanno cercato di conoscere il vero accaduto quel giorno perché cari amici non potevano crollare tre torri sotto l'azione di quei due grandi aviogetti che colpirono due delle tre a una certa altezza non potevano dissolversi in quel modo lì perché voi quando alla fine c'è stato il crollo di tutto al suolo praticamente sembrava che il tutto si fosse polverizzato se voi immaginate tutte le colonne portanti di quei due grandi grattacieli fino al punto in cui furono colpite le due torri e le immaginate come una struttura solida che sostiene la parte di sopra con l'immissione a quell'altezza di tutto il carburante contenuto in quei due aviogetti poteva essere prodotta una quantità di calore che sapete bene il calore va tutto in alto al limite la parte superiore poteva crollare sotto l'effetto prolungato della combustione del carburante contenuto nei serbatoi dei due aviogetti la quale parte superiore crollando di colpo su quella di sotto l'avrebbe sfasciata ma non polverizzata tutti coloro che hanno osservato con la situazione che c'è nel calcio con la moviola tutto quello che è accaduto e hanno visto lentamente tutto quello che è successo è sembrato non un grande colpo inferto dall'alto verso il basso che producesse uno sconquasso nella parte di sotto ma che sostanzialmente fosse costretta a muoversi a assumere una posizione diversa ma non a dissolversi sembrò proprio come in tutte le esplosioni comandate da una azione computerizzata in tutte quelle strutture che per essere demolite sono sottoposte non all'azione termica del semplice petrolio che brucia ma di elementi chimici in grado di creare istantaneamente una quantità tale di calore da dissolvere istantaneamente tutta la parte resistente nel ferro nell'acciaio e computerizzate queste esplosioni piano per piano una dopo l'altra la parte cadeva su un piano dissolto e poi sull'altro piano dissolto e poi sull'altro piano dissolto e si vedevano uscire dalle finestre gli spifferi di aria prodotti dalla parte superiore che compenetrava quella inferiore interamente dissolta insomma solo quando si procede in una demolizione computerizzata in questo modo solo allora l'effetto tangibile è quello che fu visto dopo di averlo studiato alla moviola una cosa soltanto pazzesca da pensare perché per rendere possibile una cosa del genere chi poteva eseguirla immaginate la dimensione impianta dei due grattacieli nei piani tantissimi c'era di tutto c'erano banche c'erano case private c'erano luoghi in cui esistevano imprese sapete bene che non è possibile entrare in casa altrui senza un mandato per eseguire dei lavori ebbene una grande troupe avrebbe dovuto ottenere il permesso senza suscitare sospetti di entrare in tutte le case di costoro per collocare all'interno delle parti in acciaio che sostenevano la struttura questi propellenti particolari che attivati poi in una perfetta sequenza creassero tutto questo sarebbe stata necessaria una quantità enorme di persone che dovevano agire tempestivamente in un tempo breve e senza suscitare sospetto secondo voi una cosa del genere è mai possibile un privato che si veda costretto a togliersi di mezzo perché deve entrare una squadra che soprintende a questo e a questo e non si insospettisce e non fa clamore secondo voi è una cosa possibile ma è possibile uno stato come quello degli stati uniti d'america che mosso comunque dai servizi segreti o da altri arrivino a concepire che per avere l'alibi di attaccare il mondo arabo ci dovessero essere duemila morti in una azione clamorosa come quella che poi abbiamo visto insomma gli stati uniti avrebbero dovuto essere gli ispiratori di questo massacro e avrebbero dovuto coinvolgere delle persone dentro questo massacro ma la fantasia umana va in tutte le direzioni a tutto oggi è propenso a credere un uomo tranne che all'intervento di Dio l'intervento di Dio è totalmente escluso da tutti avrebbe avuto una ragione Dio a intervenire e come no dopo che il 14 settembre del 1998 sua santità Papa Giovanni Paolo secondo aveva emanato la sua enciclica l'anno successivo il 24 di ottobre del 1999 c'era stato un filosofo che aveva accolto l'invito fatto dal Papa e in una assemblea che aveva invitato apposta invitando la Chiesa aveva ottenuto due benedizioni apostoliche dal Papa ma non era riuscito in alcun modo a portare lì quel giorno nel convegno quello dalla fine del tempo perché 24 come giorno ha il numero 24 di tutte le ore del giorno il mese di ottobre che è il 10 è l'intero ciclo numerico il 1999 è l'ultimo anno che esiste prima del termine del mille e non più mille in quella data a Saronno furono erette le due torri gemelle che il Papa voleva fossero erette ma la Chiesa mosse contro quel giorno guarda caso a Saronno si celebrava l'esaltazione della Santa Croce e c'era il trasporto della Croce di legno lungo tutta via Roma in Saronno nel mentre a Saronno c'era e c'è stato l'unico convegno di attuazione dell'enciclica Fides et Lazio in cui un filosofo cercando direttamente le ragioni di Cristo aveva ottenuto il risultato strepitoso di sconfiggere la morte e di esprimere il vero giudizio finale atteso dall'uomo alla fine del tempo questo è accaduto di clamoroso a Saronno ma tutti i sacerdoti del circondario avevano mosso guerra contro questo filosofo egli per difendere l'enciclica Fides et Lazio aveva iniziato un digiuno era digiuno quel giorno da 38 giorni esatti perché aveva cominciato il digiuno il 17 di settembre di di settembre si il 17 aveva iniziato il suo digiuno e il giorno 24 ottobre aveva compiuto i 38 giorni pari all'anno 38 della sua nascita era digiuno e mangiava solo il corpo e il sangue di Gesù Cristo nella messa quotidiana ma la Chiesa cattolica dimostrandosi di essere alla pari di quel movimento di Bin Laden contro la sua fede si era mossa all'unanimità contro l'iniziativa di Papa Giovanni Paolo II comportandosi in quello stesso modo aveva accettato perfino che questo filosofo morisse o si ammalasse ma non gli si doveva dare spazio alcuno dunque se a un certo punto Dio recupera quel suo essere il Dio degli eserciti e a dimostrare che cosa succede quando si fa guerra a Lui messo proprio in un modo esemplare all'attenzione degli uomini attraverso quello che è nel disegno di Dio una parabola reale al posto di Dio c'è la nazione più potente del mondo al posto di fede e ragione c'è l'orgoglio umano delle due torri gemelle dell'uomo e la fede stravolta li muove contro sono abbattute in un modo trascendente crolla anche una terza abbattuta dalle due mentre sono crollate dissolta essa pure ciò che non poteva essere opera dell'uomo lo ha fatto Dio ma siamo in un mondo in cui l'opera di Dio non la vede e non ci crede più nessuno nemmeno il Papa crede che una cosa del genere sia opera di Dio è opera dell'uomo e invece guarda caso tutto quello che accadde il 9 settembre no l'11 settembre e che differenza c'è tra il 9 settembre e l'11 settembre io ho detto il 9 di settembre messo in relazione proprio al termine della mia vita in cui la verità di Dio discese in me se ne torna in cielo c'è interamente Satana 666 giorni in un piano che ha 10 giorni e 10 giorni come espansione trasversale ecco c'è proprio Satana in azione ma quando aggiungiamo ancora due giorni andiamo a completare tutto il piano perché il piano di Dio in giorni ha un giorno e un altro giorno come i due giorni che sono presenti a generare un piano avanzante gli altri due lati sono quelli che in un certo senso sono a favore di tutti e quattro i lati che formano un quadrato di conseguenza quando a 7 settembre andiamo a aggiungere altri due giorni quando a 9 settembre scusatemi andiamo ad aggiungere gli altri due giorni e arriviamo all'11 settembre abbiamo proprio pieno il quadro dell'azione satanica e nell'11 settembre abbiamo proprio l'azione di satana il santo è san ramirò andrò a essere ram poi vedete il 12 settembre c'è il santissimo nome di maria e praticamente si completa questo periodo che comincia il 7 settembre che comincia il 7 settembre con santa regina vedete santa regina l'8 settembre con la natività della beata vergine maria che è la regina e poi con questi tre giorni qui di somma crisi andiamo a finire al 12 settembre che è il santissimo nome di maria dopo ci sarà san giovanni crisostomo e infine il 14 settembre esaltazione della santa croce ma ora andiamo a osservare esattamente che cosa dobbiamo aspettarci in relazione proprio alla data di oggi ecco io i conti li faccio rispetto a quello che sarà il giorno che io ho capito sarà quello proprio messo in relazione alla profezia di Daniele quando aveva parlato di 1290 giorni dopo l'abominio della desolazione di 1335 come tempo e tempi e poi aveva parlato di mezzo tempo ebbene questo mezzo tempo secondo i calcoli fatti da me si mettono in relazione proprio al 26 di luglio del 2016 ebbene vediamo un po in un conto alla rovescia quanti giorni mancano da oggi 9 settembre 2014 fino a questo 26 di luglio di quel 2016 in cui si completa tutta l'opera del piano di Dio infatti 2016 indica nel 16 il piano 4x4 laddove 4 è l'unità sommata alla trinità di Dio quindi il 16 è il piano dell'unità trinità di Dio il 2000 è tutto il 1000 avanzante di 1000 laddove 1000 è 10 elevato a 3 ossia è un Dio che si presenta nella quantità 10 di un padre che trascende con il 10 l'unità reale data da 0,1 e che nella sua potenza si esprime in dimensione 3 10 elevato a 3 è 1000 ma quando questo 1000 avanza interamente di 1000 occupa 2000 in linea di flusso e il 16 che esprime 4 per 4 si riferisce proprio al piano totale costruito sulla dimensione lineare dell'unità e trinità di Dio ecco dal 9 settembre 2014 al 2 settembre del 2016 ci sono 731 giorni perché il 2016 è un anno bisestile altrimenti sarebbero 730 sono 731 dal 26 luglio al 9 settembre ce ne sono 5 per luglio 31 per agosto e 9 per settembre un totale di 45 pertanto il 9 settembre 2014 dista 731 giorni meno 45 ossia 686 giorni che sono 666 in flusso e 10 più 10 nella sezione unitaria del ciclo trascendente l'unità ripeto l'area unitaria reale è 0 1 per 0 1 nella lunghezza è 2 mentre invece quella trascendente non è 0 1 più 0 1 ma è 10 più 10 posto 666 come il maligno oggi 9 settembre 2014 c'è il piano assoluto 10 per 10 in tutto il moto 666 di tale maligno tentiamo di vedere se il potenziale in linea del tempo relativo al 2014 virgola 0909 ossia 9 settembre se lo dimostra il potenziale lineare di questa data desunto dalla sua radice quadrata arrotondata in più alla decima cifra è il 44 87 86 24 09 quello che al quadrato ossia nell'operazione inversa riporta a 2014 virgola 0909 e 00 ossia con l'aggiunta di due zeri nel valore che spetterebbe al numero delle ore posto esattamente a mezzanotte quando c'è la pienezza di un giorno nella misura esatta delle 12 perché sono le 12 00 minuti allora vediamo il potenziale numerico riconosciuto 1 in 44 sì perché perché 44 è il valore che il ciclo di 10 unità dato da 11 esiste in tutte e 4 sono le dimensioni della realtà quando ce ne sono 3 come spazio e una come tempo allora 4 volte 11 uguale 44 esprime attraverso 44 componenti ciò che è un tutt'uno e poi andiamo a osservare i quanti decimali i due quanti 87 fratto 0 perché fratto 0 perché 87 è una quantità assoluta cioè non riferita ad alcunché o se volete riferita proprio a 0 e 86 e 86 unità computano tutto il flusso di 13 valore assoluto oppure di 12 unità relative nell'assoluto dato da 100 oppure da valore unitario dato da 99 unità il che mostra il 13 come il 3 reale più la trascendenza divina 10 dell'unità 0 1 quindi vedete il valore reale che occupa 4 dimensioni quelle della realtà 87 e 86 quantifica esattamente la sottrazione a 100 di tutto Dio 10 e 3 in assoluto e in termine di valore unitario in assoluto è l'87 dato da 100 meno 13 in relativo unitario è il 99 meno 13 e siamo sempre lì sono due valori assoluto e unitario che quantificano unitariamente tutta quanta la realtà in 24 e 09 ci sono tutte le 24 ore del giorno e tutto il piano di espansione dato da 3 per 3 dunque il sottrarre il Dio 10 più 3 all'assoluto 100 e quello delle 12 unità degli apostoli o delle 12 tribù di Israele alle 99 a 1 unità comprese nell'assoluto 100 cui è sottratta l'unità di Dio tutto questo sottrarre indica certamente il lavoro intero del maligno è svolto per tutte l'ore di un D o se volete per i 12 discepoli di Gesù sommati ai 12 figli di Israele in tutto il piano espanso 3 per 3 volte a dimensione 10 elevato a meno 8 dimensione che indica il massimo flusso lineare di metri 10 elevato a meno 2 nel 10 elevato a meno 10 metri che è il valore inverso di quel 10 elevato a 10 che riferito a 10 elevato a meno 10 costituisce totalmente il riferimento unitario ecco vediamo ora cosa succede quando calcoliamo il potenziale dei due giorni che stanno per venire quello del giorno 11 settembre crollo delle due torri gemelle e quello del 14 settembre esaltazione della santa croce il potenziale si estrae sempre dalla data e quindi mettiamo 2014 virgola 09 ossia settembre 11 per quanto riguarda il giorno del crollo delle due torri gemelle elevato a un mezzo il che determina il valore lineare del potenziale un valore che poi al quadrato ripristina quella data con il valore 00 dei minuti grazie al fatto che noi abbiamo maggiorato l'ultima cifra la decima cifra infatti il valore che abbiamo ottenuto qui come radice quadrata non sarebbe 44 86 86 26 32 ma 31 e rotti noi consideriamo solo le 10 cifre della presenza e l'ultima la maggioriamo di 1 in modo che facendo il quadrato vengono fuori alla dimensione dei minuti 0 delle ore 00 ore e quindi il quadrato di questo valore che abbiamo evidenziato in rosso determina 2014 virgola 09 11 e 00 ossia un giorno preciso con 0 ore in più ecco poiché il valore che avevamo precedente nel valore di oggi era 24 e 09 c'è la differenza qui di un 632 al posto di 409 che esisteva i due giorni prima ossia oggi e questa differenza vale proprio il 409 di oggi che si sommi al 223 409 più 223 uguale 632 in sostanza i due giorni che abbiamo aggiunto esaltano a tre dimensioni di cifre il valore 222 in unità dato da 223 dimensioni totali quelle che servono per fare 222 unità ogni unità ha sempre il denominatore 1 e se lo consideriamo le unità sono sempre maggiorate di 1 quindi 222 unità devono essere 223 e sono proprio le 223 che si sommano a questi due giorni e portano il potenziale lineare a esistere come 632 in sostanza i due giorni aggiunti esaltano leggo a tre dimensioni il valore 222 unità dato del 223 dimensioni 632 è dato da 222 più 410 ed è la presenza un terzo del 666 il diavolo sommata ad amor uguale 41 che è divino ossia 41 per 10 dove amo è il trino in amodeo che è il mio cognome e r è quanto è uno in romano ora andiamo a vedere e intanto questo vi fa notare fino a che punto passando dal giorno di oggi a quello del crollo delle due torri gemelle sia coinvolto l'amore di dio agganciato alla conversione di un diavolo vediamo che cosa accade quando andiamo a calcolare il potenziale in linea della data del 14 settembre giorno di esaltazione della santa croce in cui il papa giovanni paolo secondo tentò di far scaturire un messia dello spirito santo della verità di cristo il potenziale ottenuto nello stesso modo ossia attraverso la radice quadrata a dieci cifre in cui l'ultima è maggiorata di uno porta la differenza a esistere solo nelle ultime tre cifre che dalle 632 che esistevano in quelle evidenziate in rosso sono diventate le 966 di quelle evidenziate in blu per passare dal giorno delle torri gemelle al giorno dell'esaltazione della santa croce bisogna aggiungere a 632 esattamente 334 ossia 333 più 1 dimensioni assolute a quanto espresso tre giorni prima e 555 più 2 dimensioni assolute a quanto relativo invece a 5 giorni prima del 14 ossia al giorno 9 di oggi come vedete per trasferire la giornata di oggi a quella dell'esaltazione della santa croce ci va di mezzo proprio quella trinitaria intermediazione del ciclo 10 divino dato da 555 in linea più le due dimensioni trasversali 1 più 1 di una perfetta area unitaria 966 di fatto valutandolo in relazione al diavolo che è 666 si mostra come 666 più 300 e mostra in 666 la croce del dio assoluto 100 quando questo dio assoluto 100 esiste nella trinità 300 di un volume che abbia 100 in ciascuno dei tre lati che completano questo volume di conseguenza che cosa esiste nel potenziale di questo numero proprio il potenziale di una santa croce patita dalla trinità e unità di dio ma attenzione perché le 334 dimensioni aggiunte a quelle risultanti l'11 settembre delle torri gemelle abbattute in queste 334 sono proprio quelle di romano antonio anna paolo torquato un valore espresso in nomi che quando si traduce nelle componenti numeriche di quelle alfabetiche che sono i valori 1 21 date alla lettere che vanno dalla a alla z porta il nome romano antonio anna paolo torquato a esistere come 66 più 78 più 26 più 51 più 113 uguale 334 che è anche l'unità eternità assoluta di dio 400 meno 66 ove 66 è proprio il primo nome romano come vedete oggi abbiamo una realtà veramente espressa in relazione del grandissimo pericolo di un satana ma in una linea di sconfitta di satana perché mentre andiamo tra due giorni all'abbattimento delle due torri gemelle che romano Amodeo ha cercato di erigere in Saronno il 24 10 del 1999 e che furono abbattute dalla fede cattolica che non le ha volute ancora erigere ecco rispetto a questa data se si integra esattamente al potenziale in linea di questa data il valore esatto di tutto il nome di romano antonio anna paolo torquato ecco che ci si riconduce magicamente divinamente proprio a quel giorno di santa esaltazione della santa croce che papa voetiva volle proprio glorificare pubblicando in quel giorno il valore di quel libro che esaltava le due torri gemelle di Dio quelle della fede e quelle della ragione pura dello spirito santo della verità di Dio ecco io vi mostro la pagina finale dell'enciclica Fides et Ratio in cui il santo padre Ioannes Paulus Secundus scrive questo è se fate attenzione un legame proprio stabilito nell'autorità di Pietro nella terra come in cielo perché quando esprime questo voto possa la sede della sapienza essere il porto sicuro per quanti fanno della loro vita la ricerca della saggezza il cammino verso la sapienza ultimo e autentico fine di ogni vero sapere possa essere liberato da ogni ostacolo per l'intercessione di colei che generando la verità e conservandola nel suo cuore l'ha partecipata all'umanità intera per sempre ora la chiesa cattolica messa di fronte a questo straordinario invito fatto a Maria Santissima come sede della sapienza di potere essere e di liberare che autorità ha avuto Pietro quello proprio di legare e di sciogliere se nella chiesa cattolica esistesse vera fede sull'autorità concessa straordinaria a Pietro di legare e sciogliere in terra come in cielo tutti gli uomini della chiesa cattolica nella loro coscienziosità avrebbero dovuto chiedersi in che modo la madonna ha potuto perché se il papa dice possa lega la sede della sapienza ha un potere entrare in azione e non deve esserci dubbio che il cielo rispetti questo legame tra la fede e la ragione fissato dal santo padre è inutile che mi venga un rossano o altri a dire che c'è la pretesa di dire delle cose così un vero cristiano di fronte a questo legame fissato dal papa si chiede in che modo Maria ha potuto e si è trovata di fronte a uno solo tra tutti gli uomini che ripetutamente ha dichiarato di essere stato rimesso addirittura al mondo da Maria Santissima in un bambino che stava morendo per compiere questo intervento non basta nemmeno che questi lo dica per essere verificato se sia possibile o no che sia accaduto questo intervento divino esso è decisamente escluso da ogni rossano che crede che è legato alla parola e che non ha alcuna fede perché poi arriva a dire che il sottoscritto viola tutte le disposizioni date da Cristo l'uomo non ha fede e non rispetta il legame fatto da Pietro e un numero esatto di giorni dopo ecco che attraverso quella parabola reale dell'abbattimento delle due torri gemelle di nuova york dio ha mostrato all'uomo come dovrebbe essere quando tocca le due torri gemelle di un potente ma ancora una volta l'uomo non crede che dio sia così chiaro perché non vede l'opera di dio è solo in grado di vedere l'opera umana una fede cattolica che fosse come si dovrebbe di fronte a un impegno di questo tipo fissato dal papa Giovanni Paolo II avrebbe dovuto chiedersi poiché la Madonna si mostra sempre a dei piccolini che potrebbero sfuggire al nostro accorgerci dobbiamo fissare un laboratorio di ricerca per vedere attraverso chi la sede della sapienza ha dato la sua risposta al legame fatto dal papa e invece non solo non ha fissato nessun osservatorio di ricerca ma si è trovato davanti a chi facendosi avanti da solo ha detto la risposta viene attraverso di me nemmeno in quel caso si è accettata una cosa così che morisse pure chi aveva osato tutto quello che il papa aveva invitato a osare chi credeva di essere questo filosofo da osare talmente da avere tanta fede nella sapienza umana quando il papa proprio aveva detto bisogna che i filosofi osino avere fiducia nelle possibilità offerte della ragione umana e c'è un filosofo che lo fa e si ritrova tutti contro perché è il solo Giovanni Paolo II colui che lo sostiene contrastato da tutta la sua chiesa tutta la chiesa ha messo a tacere il papa Giovanni Paolo II nella cosa più grandiosa che il papa ha fatto quando come è scritto in corsivo subito sopra la sua firma Roma presso San Pietro il 14 settembre festa della esaltazione della Santa Croce dell'anno 1998 ventesimo del mio pontificato al ventesimo del pontificato del papa c'è stato tutto il percorso possibile dieci di dieci della sua opera il legame tra la fede e la ragione è stato tale da scaturire sulla scena reale del mondo la sede della sapienza ma la chiesa non ha voluto vederlo nessuno vuole vederlo ed ecco allora l'esaltazione della Santa Croce proprio resa manifesta il giorno 24 ottobre del 1999 1909 quando il solo filosofo che abbia mai cercato di rispondere alla chiesa organizzando un convegno a Saronno in cui ha vinto la morte e ha espresso il giudizio finale sull'esistenza era costretto a 38 giorni di digiuno per la lotta fatta dalla chiesa contro l'enciclica ma in quel giorno si celebrava a Saronno l'esaltazione della croce che a Saronno si chiama la festa del trasporto in cui la croce viene trasportata da una parrocchia nella sede dei Santi Pietro e Paolo lungo tutta via Roma e una ventina di sacerdoti tutti quelli del decanato dietro la croce di legno a mortificare la croce vivente nell'unico che chiamato come messia della verità della ragione di Gesù Cristo si immolava tanto che quel giorno a Saronno la croce è passata dalle spalle di Cristo sulle spalle di questo povero Cristo che come già accade a quel tempo in cui il Sinedrio si volle sbarazzare di Gesù stavolta la Chiesa Cattolica ha tentato di sbarazzarsi di questa nuova presenza di un Gesù ritornato in verità per effetto della sede della sapienza di sua madre vedete tutto è assai chiaro si presenta come più chiaramente non sarebbe possibile ma tutto si scontra inevitabilmente contro quella dura cervice di tutti coloro che troppo vicini agli eventi non li sanno mai leggere mentre accadono davanti a loro sono solo capaci di vederli quando passa il tempo doveroso e fissa le dovute distanze solo allora ci si comporta come in quella poesia della caduta quercia dov'era l'ombra or se la quercia spande morta eccetera 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 dov'era l'ombra or se la quercia spande morta né più quei turbini tenzona la gente dice or vedo era pur grande pendono qua e là dalla corona i nidietti della primavera dice la gente or vedo era pur buona ognuno loda ognuno taglia a sera ognuno col suo grave fascio va nell'aria un pianto d'una capinera che cerca il nido che non troverà po'n te po'n te miro po'n te